Buon pomeriggio, abbiamo preparato alcune unità didattiche, ma prima di iniziare vorrei mostrarvi un powerpoint che riguarda un po' questo progetto. Come sapete abbiamo fatto nel WP precedente, nel WP di cui parliamo oggi, invece il target è stato il potenziamento di insegnamento della lingua italiana, ma soprattutto di lavoro interdisciplinare a questo verso, perché abbiamo un territorio con più lingue e quindi l'aspetto linguistico, grazie all'operato di docenti, delle guide, si è potuto confrontare, trasmettere, consolidare e poi abbiamo pensato di lavorare in ambito letterario. Quindi sarà un lavoro un po' diverso, come vedete, un modulo teorico per offrire ai docenti delle basi conoscitive di modelli e approcci innovative, risultati di ultime ricerche che sentirete più avanti della didattica della linguistica in aree transfrontaliere. Questi moduli che stiamo presentando, già dall'altra settimana, appunto, possono essere usati a scuola e sono moduli condivisibili anche con insegnanti, non sinceramente di lingua italiana, ma anche con insegnanti di altre materie. Vedremo appunto, abbiamo già visto anche con la collega Martina, come si possa lavorare anche con più insegnanti su più materie, però partendo dal punto, diciamo, di vista linguistico. Il primo autore, e qui parliamo di autori direttamente, che abbiamo scelto, che ho scelto, è stato Gianni Stuparic. Per scegliere alcuni autori adatti a quello che avevamo in mente, è stato, diciamo, un lavoro un po' complesso. Sapete bene che esiste già un'antologia di autori, diciamo, della Comunità Nazionale Italiana, che è stata edita un paio di anni fa, grazie al lavoro di un'università di umanistica di Capodistria e non solo, e che è probabilmente un valido supporto a quanto viene svolto in classe, sia più insegnante di italiano che più insegnante anche di storia, di altre materie e così via. In questa antologia però, per motivi naturalmente di scelta, di privilegiare, anzi di includere solamente autori locali, non hanno trovato spazio degli autori che, pur non essendo di questo territorio, messo nel territorio limitrofo, in questo caso del Triestino, hanno scritto, operato, nel secolo scorso ma non solo, come vedremo, proprio parlando dell'Istria. Stuparic è stato già, diciamo, valorizzato per le nostre scuole quando è stato inserito, se non sbaglio un paio di anni fa, qui magari il nostro signor consulente mi può aiutare nell'Evinecino. Signor consulente è distratto, sì, era stato una verifica nazionale delle competenze che è stata anche, scusate l'espressione, somministrata, credo due o tre anni fa. E quindi un autore che sta venendo rivalorizzato, in particolare nei suoi ricordi Codistriani. I Codistriani è stato scelto perché forse l'opera più, diciamo, più semplice, più adatta ai nostri ragazzi rispetto ad altri, adatti lavori di Gianni, no? Sapete probabilmente è già nato a Trieste, è uno scrittore che ha iniziato a operare praticamente nel periodo, diciamo, della prima guerra mondiale, è stato anche volontario di guerra, irredentista, ma poi ha avuto un percorso umano e politico diverso, tanto da far parte anche della Resistenza. Le opere più importanti sono i racconti che risalgono un periodo della prima e della seconda guerra mondiale, nel 29, l'isola, qualche ritorno del padre, i Codistriani, no? Nel 61. Quindi abbiamo scelto Stuparici, in particolare abbiamo scelto questo I Doni dell'Istria, in cui l'autore praticamente ricorda se stesso da bambino il suo rapporto con la terra natale del padre, della madre, mentre lui già viveva a Trieste, questo in parte anche autobiografico, no? In quanto, vedete, il padre di Gianni era nato a Lucin piccolo, aveva studiato al ginnasio di Capodistria, qui vicino, oppure, come tanti altistriani, si è spostato, venuti di lavoro a Trieste. E questo è il primo autore, questo abbiamo, poi vedremo le schede di lavoro, il PowerPoint e così via, a cui abbiamo pensato. Ecco qua, una della slide iniziale del PowerPoint, no? Quella nostra Istria. Il secondo autore, anch'esso triestino, anche d'origine mista in questo caso, Bohemo, tedesco-slava e Scipio Slaterper. L'opera naturalmente, in questo caso, che è stata scelta, è Il mio Carso. Questo anche perché abbiamo pensato, con la professoressa Sonia, a suo tempo, di trovare, scegliere delle tematiche particolarmente, diciamo, moderne, adatte ai nostri giovani e adatte ai tempi che corrono e alle sfide che ci presenta la contemporaneità, in particolare l'ambiente, la conoscenza dello stesso, attraverso in questo caso la letteratura, perché comunque di moduli di lingua italiana si trattava, e poi vedremo anche la condizione femminile, che è stata in parte, avete visto, anche introdotta nell'unità didattica presentata dal collega Martina, con le savrinche e le lavoratrici nelle fabbriche, ad esempio, del pesce, no? Come quelle di isole e così via. Quindi abbiamo, diciamo, appunto, fatto una evoluzione, visto che il target per Stuparic è quello della classe nona, per Slaterper invece, siamo al primo bienio della scuola media. Quindi quello che vedrete dopo è stato tarato per ragazzi, diciamo, del primo e secondo anno della scuola media. Il mio Carso, il mio Carso è un'opera elegiaca, un'opera che è stata composta in un villaggio qui vicino, Zisla, sapete probabilmente a Doveno, fa parte oggi del Parco Nazionale di Beca, Valenza ulteriore, questa zona sta venendo coinvolta per necessità, naturalmente, dei lavori del drugitiro, del secondo binario, quindi rapido cambiamento anche. Interessante vedere come Slaterper, appunto, ai tempi della Belle Epoque, prima della Prima Guerra Mondiale, sceglie questa località come buon ritiro, come luogo di ispirazione e li compone la sua opera principale. E quindi il territorio e il rapporto con i classici della letteratura, in questo caso, appunto, il mio Carso. E qui abbiamo scelto, naturalmente, una parte dell'opera, che poi vedremo nella scheda di lavoro, per far conoscere ai ragazzi, forse i più grandi cantori in lingua italiana del Carso. Poi vedremo che ci sono anche degli altri, altrettanto importanti autori di lingua slovena. Naturalmente tutti voi conoscete Kosovo e le sue splendide poesie. Vedremo anche questo, nel dettaglio, giusto uno spunto, l'idea poi di creare, di lavorare in maniera anticipinare anche questi altri di geografia e di, diciamo, biologia, ma soprattutto in questo caso geografia e chimica, per un glossario di termini del carcismo. Sapete, molti termini, alcuni termini sono identici, altri termini cambiano completamente di significato. Alcuni termini hanno un'etimologia da lingue straniere, come Flisch che è del tedesco, e quindi un lavoro per potenziare la terminologia specifica di determinata materia da fare assieme, appunto, ad insegnanti non di lingua, ma di materie scientifiche e da utilizzare anche quando, ad esempio, poi in terza o in quarta, a ginnasio, si fa così, discussione didattica di geografia e così via. Altro aspetto importante su cui si può lavorare da questo punto di vista è la toponomastica, la tecnologia della toponomastica, la traduzione e il mutamento nel tempo. Questo si può fare scegliendo un determinato territorio o ambiente, come il Carso, ma può essere naturalmente anche l'Istria costiera, può essere i colli della Savrenia, può essere il Triestino, il Breg e così via, zona abitata dalla comunità nazionale slovena, e lavorare, consigliante di storia, geografia e così via, per vedere la toponomastica, la sua origine, ad esempio molto diffusi sono i dendronimi, cioè i toponimi derivati da specie arbore e sono diffusi sia nel mondo, diciamo, oggi di slavofono che in quell'italofono, a volte tradotti, a volte completamente mutati. Esempio classico di mutamenti sono sia quelli dovuti alla politica, quindi anche alla nazionalizzazione, su cui si può lavorare in particolar modo in terza e in quarta, ma anche semplicemente ad errori e approssimazioni. Tutti conoscete la storia del Montenero, o meglio Krn diventato Montenero, per approssimazione e traduzione da parte dei geografi italiani ai tempi della prima guerra mondiale. È stato poi creato un PowerPoint, che magari guarderemo, che è di sostegno a questo lavoro interdisciplinare con le caratteristiche geografiche della Varosandra. La terza opera, che poi vedremo nei dettagli, e abbiamo scelto in questo caso un racconto breve, un racconto breve che è nato alcuni anni fa, di una scrittrice che si sta imponendo, effettivamente conosciuta oggi, nella nostra conazionale, molti di voi la conoscono, Elena Bulfon-Bernetic, che ha creato questa raccolta, è stata appena edita, questo verrà presentata in giugno a Casa Tartini, poi da altre parti, e all'interno di questa raccolta abbiamo pensato, anche su spunto della professoressa Zudic, di utilizzare l'albero di Natalia di Anna, un racconto storico-sociologico. In tutta questa raccolta ci sono, appunto, possiamo anche leggere alcune parti, l'abbiamo scelta perché non era stata inclusa nella famosa antologia che ho citato all'inizio, e un autore che si sta affermando non è ancora usato a scuola, abbiamo pensato di, in questo caso, di affiancarci praticamente al lavoro fatto nell'antologia. E quindi uno dei scrittori più giovani che abbiamo, che ha saputo mantenere i rapporti con la cultura tradizionale, a volte contadina, a volte cittadina, letteratura che viene definita anche d'avanguardia, legata a quella italiana ed europea contemporanea. Racconto diario, scrittura immediata e autobiografica, questo anche perché può coinvolgere con maggior facilità gli studenti che leggeranno queste parti. La scrittura immediata riproduce a condizioni il linguaggio di generazioni cresciute del periodo dello sfaccio ex iugoslave dei giorni nostri, quindi contemporaneo decisamente. E al centro della narrazione sono sempre donne, sono personaggi femminili, su cui ci tenevamo a lavorare su questo. Giovani donne, quindi sulla loro vita quotidiana, un'istria che però non è quella di Stuparic, ricordata da un bambino e quindi meravigliosa, ma un'istria concreta, non è un carso elegiaco, non è un carso a volte molto duro e povero, è violento, è un mondo che sta virando verso la modernità rapidamente, come voi tutti sapete anche vivete quotidianamente. Quindi in realtà è in presa diretta, un linguaggio in parte recuperato dal gioco giovanile, ma anche dalla televisione, sport pubblicitari, in cui abbiamo anche delle parole in lingua zovena o frasi dialettali. E questo ci ha portato anche a creare poi delle attività legate ai dialetti. Le tematiche cari dell'autrice, uomo-donna, adulto-bambino, storie coinvolgenti, appunto contraposizioni, dicotomie tra città e provincia, ma anche una certa mentalità a volte superata retrograda. Ci sono storie che ci portano al passato, in particolare la prima del racconto, ma che è ambientata nel periodo immediatamente successivo alla Prima Guerra Mondiale, e questa che invece è ambientata negli ultimi mesi prima del Secondo Conflitto Mondiale, quando l'istria stava per entrare nella Seconda Guerra Mondiale e sarebbe cambiata completamente. Le forme dialettali appunto sono molto diffuse sul territorio, questo fa parte di una mostra che abbiamo visitato con l'altro work page di Educa, ma vedete ad esempio, mostra etnografica che ci mostra già dal titolo delle forme di sloveno particolare. Lo sloveno è il dialetto del confine, come contaminato all'istroveneto da parole di origine slovena e non solo, questo come fosse tanto visibile, vedete Brustolim, Frustuck, da Frustuck tedesco, colazione in questo caso, Kavinkruck, e così via, Kogma, Kogma dialettale. Quindi la contaminazione è sempre stata presente, si nota meno naturalmente negli autori classici come Stuparic e Slataper, si noterà di più, lo vedremo nel lavoro fatto invece della Bulfon-Bernetic. Questa è parte della mostra etnografica. Su questo abbiamo parlato anche venerdì, qui, riguarda queste pratiche, diciamo, il multilinguismo, il plurilinguismo che caratterizza questi contesti educativi europei, infatti abbiamo parlato di questo, no? Ecco. Questa è la parte, diciamo, iniziale, adesso passiamo, diciamo, all'unità didattiche vera e proprie. Quindi chiudiamo questo. Riguardo, vedete, delle preattività per creare attenzione e motivare, no? Cosa ti fa vedere in mente la parola Istria? Ti suggerisce qualche immagine, ricordo, esperienza? Confronta le tue idee dell'Istria o sull'Istria con quei tuoi compagni. Questo è anche interessante, un lavoro visto anche, diciamo, l'origine etnica di i ragazzi in cui lavoriamo. Per alcuni non sarà nulla, per altri sarà, avrà un'idea molto, diciamo, diverse e variegate e sarà interessante confrontare. E poi c'è la parte testuale, tratta appunto da Stuperic, relativamente breve, delle note biografiche per inquadrare l'autore, naturalmente, visto che non è compreso appunto nelle antologie tradizionali, e poi il lavoro che comincia ad essere disciplinare. In questo caso, insieme agli insegnanti di italiano e storia, ha cercato informazioni che permettono di costruire e presentare la sua opera e il suo contesto storico in cui è vissuto. Delle parole chiave per aiutare il lavoro, come a Belle Epoque, Impero Strungari, Copriamo Guerra Mondiale, Fronte del Carso, appunto sappiamo che era volontario. Qui il discorso si allarga, insieme agli insegnanti di geografia e scienze naturali, cercato di identificare i luoghi a cui fa riferimento l'autore, usando il PowerPoint che vedremo dopo, individuando e scrivendo le caratteristiche geografiche, naturali, paesaggistiche. Poi, storia, geografia ed educazione civica, interdisciplinare, informazioni aiutano a confrontare, di nuovo il confronto tra presente e passato, la situazione economica dell'Istria, descritta da Stuperic con quella odierna, individuando somiglianze, differenze, trasformazioni. E, insieme agli insegnanti di italiano, educazione civica, matematica e informatica, svolgete nella vostra scuola una piccola ricerca sotto forma di breve interviste o questionario. Classificate le risposte ottenute, elaboratele, aspettate anche dei grafici e così via. Poi, altre attività, ecco, questo è legato alla gastronomia, in quanto nel brano riportato c'è tutto un elenco di prodotti, di doni dell'Istria, di doni, diciamo, quindi produzione agricola, la pesca, l'allevamento e su questo i ragazzi possono lavorare e preparare un ricettario che potranno anche provare a utilizzare a casa. Poi c'è una parte prettamente linguistico, diciamo, di esercizi, no? Vedete alcune forme particolari, da cui devono spiegare con le proprie parole, sia termini anche relativamente desueti. Poi trovi i doni inviati alla famiglia, elenca il gruppo di tipologia, confronta la tua classificazione e quella dei compagni, cerca delle informazioni sulle caratteristiche e sulle provenienze di ciascuno dei doni e provate a verificare se si sono riperibili anche oggi. Poi spiega con parole tue che cosa dottore ci voleva comunicare a proposito dell'Istria quando contrappone parole povera e impoverita e confronta la tua interpretazione. E poi questa specie di contraddizione istia tanto povera quanto generosa e ritieni che l'opinione di stupori sia applicabile anche nell'Istria di oggi. E questa era la parte operativa. La parte sotto forma di... Prego. Ma che frascolizzare l'ottava nona? Nona, essenzialmente l'ottava nona. Abbiamo pensato l'ottava nona in considerazione dei programmi che vengono svolti, soprattutto di storia e geografia, in parte di Civi che notava ancora di biologia, per la questione dell'Istria. Come territorio, come storia, come letteratura si studia soprattutto in quel periodo dell'anno, diciamo, trottava in una classe. Prego, se posso aggiungere a commento, perché allora l'impostazione un po' di tutte le unità di dati che l'abbiamo visto la volta scorsa, ma vale anche per quanto ha presentato Martina prima e per quanto sta presentando Massimo adesso. Allora, noi siamo abituati, anche per ragioni legate al nostro programma, che è molto esteso e molto prescrittivo, a considerare che tutto quello che viene proposto da un testo, diciamo un libro di testo, da un materiale, debba essere svolto nella sua interezza. L'idea da cui noi siamo partiti invece per preparare le unità è questa. Noi mettiamo a disposizione una certa quantità di materiale che è ampio e che non necessariamente può o deve essere utilizzato da tutti gli insegnanti in tutti i contesti. Faccio questo riferimento. Voi avete a che fare con libri di testo provenienti dal mercato editoriale esloveno e dal mercato editoriale italiano. E sapete benissimo che il principale problema che abbiamo noi quando adottiamo un libro di testo dall'Italia è che l'offerta di contenuti è sovrabbondante rispetto agli obiettivi che ci interessano raggiungere. Ecco, diciamo così, la falsariga di tutte queste unità è più in questo senso che non nell'altro. Offrire un materiale che è sovrabbondante, che però ha il vantaggio di consentirvi di istituire collegamenti con una o con l'altra delle diverse discipline. Potrebbe essere che in un contesto sia più semplice, più opportuno e dove dico contesto non parlo solo del contesto degli altri insegnanti, parlo del contesto classe, in cui è più opportuno, più semplice e quindi preferibile approfondire il discorso tra l'italiano, la storia e la geografia, un altro in cui è possibile ipotizzare, e faccio riferimento a uno degli spunti proposti da Massimo, una ricerca che coinvolga anche procedure di elaborazione di dati in cui si coinvolge gli insegnanti di educazione civica e quello di matematica. Quindi in questo senso vanno letta, Romina giustamente chiedevano a quale classe, è chiaro che alcune di queste attività vanno, diciamo così, oltre rispetto a quello che siamo abituati a svolgere anche con una classe nona. Però vale rilievo che si faceva prima, per certi aspetti il modulo può essere ripreso, ampliato e trasferito, quindi è anche un incoraggiamento a chi lavora alla scuola media a dare un'occhiata a questo e dire che potrebbe essere comunque opportuno inserirlo. Per altri aspetti avete le mani assolutamente libere e potete scegliere di optare per una soluzione, quindi alcuni collegamenti, oppure per altri. chiedo scusa per... Come si parlava appunto è previsto 4-5 ore di lezione didattiche, naturalmente può essere fatta anche spezzata in varie parti, a seconda delle necessità, le competenze che si vogliono ottenere, dell'oggetto di unità, le abilità, si può fare un lavoro a coppi in gruppi, e così insomma vedete le metodologie utilizzate, le sosse umane interna e esterna, appunto quei docenti che coinvolgono i massimi, lingua italiana, storia, geografia, biologia, limite lingua slovena, le tappe diciamo del lavoro, volendo fare appunto, ripartirlo su 4-5 ore didattiche, che non è poco, oppure si possono appunto saltare o eliminare alcune di queste senza approfondire tutto l'aspetto, no? E' appunto una linea guida anche su come poter lavorare con altri tipi di testi, di altri autori naturalmente, non invito ad ampliare perché ce ne sono veramente tanti, ne ho pensato a questi tre, ma non è che manchino ecco da questo punto di vista. Può essere accompagnato da un powerpoint abbastanza semplice, non so alcune di slide appunto, ad esempio questa, per far identificare, questo è il testo, appunto, da cosa veniva e da dove, no? Prodotti, città, località che a volte sono dimenticate, a volte hanno un altro nome, o meglio hanno più nomi, è giusto anche lì si può fare un lavoro comparativo tra, ad esempio, l'origine antica, non so, Parenzium, Porec, Parenzo e così via, no? Dignano, l'olio, il vino e così via, no? Anche le forme con cui veniva trasportato e commercializzato decisamente diverse da quelle odierne, anche qui si può fare un confronto da questo punto di vista, no? E questo è un materiale di supporto che può essere, appunto, individuato. Ecco, la chiusura è anche interessante, no? Quella di Stuparic, di tanti anni fa. Povera la mia Istria, un'Istria che è stata sfruttata, trascurata e impoverita, ma allora da bambino, con gli occhi di un bambino, stimavano la terra più ricca del mondo, più abbondante di toni preziosi. In realtà, anche se povera, e proprio perché povera, l'Istria è sempre stata una gran terra generosa, no? E su questo anche abbiamo visto come poter aprire un dibattito con i ragazzi e quel territorio dove sono nati o dove vivono e quanto si è cambiato da questo punto di vista, quanto forse i prodotti idoni elencati da Stuparic siano o meno attuali oggi, quanto può interessare a un ragazzino di 14 anni la presenza o meno degli scampi in pescheria, diciamo, no? Ma quanto può essere importante per la biodiversità e per l'ecologia marina la presenza di un animale o di un'altra specie e così via, si può lavorare anche su questo, no? Naturalmente, per uno spunto della presenza della collega di Scienze Naturali, Biologia e Chimica qui. Il secondo, appunto, autore, qui vediamo la scheda, magari prima, che abbiamo visto, è Slatapel, con il mio Carso, qui pensato, diciamo, per le classi terza e quarta, può essere anche, diciamo, spostato verso la prima e seconda media, ma lo stiamo più adatto a questi. Le attività, produrre testi coerenti, strutture e funzioni delle tipologie testuali, selezionare informazioni in base alla rilevanza, tecnologie informatiche, come sempre, il lavoro di questo tipo e quindi gli insegnanti coinvolti, in linea di massima, come lavorare e come confrontare. vediamo brevemente il lavoro sul mio Carso. Qui, in parte, ricorda la parola Istria, nel senso, il Carso in me e intorno a me. Che cosa ti fa venire in mente la parola Carso? Anche qui ti suggerisce qualche immagine, ricordo e esperienza, confronto le tue idee sul Carso, quelle dei tuoi compagni. Terza e quarta media sarebbe anche fare un confronto tra l'impressione che un territorio crea in una preadolescente e quella di un quasi maggiorenno, diciamo, no? Terza e quarta media sono 17-18 anni. E c'è la parte, naturalmente, di testo, Carso duro e buono, con linguaggio, con italiano che risente di più di cent'anni in cui è stato scritto e quindi interessante. Di nuovo le note biografiche per inquadrare l'autore nel tempo e nello spazio. Si autodefinì slavo tedesco italiano e cadde in combattimento. Qui si possono, appunto, confrontare, ormai, questo è un errore, magari da correggere, confrontare con la letteratura europea, perché ormai sono abbastanza grandi da poter confrontare con altri autori di lingua straniera, italiano e sloveno, per vedere come un autore ha descritto il territorio in cui viveva e amava, no? Come vi c'è detto prima, un collegamento molto semplice, anche considerato l'argomento, è quello che ho concorso. Una proposta di lavoro di un autore che non fa parte dell'antologia prevista, perché per i motivi che ho spiegato prima, ma che riteniamo importante, perché ha descritto una parte di territorio che, diciamo, accomuna le genti di questa zona, le genti italiane e le genti slovene. Questo fa parte sempre di Educa, di un work page, di Educa, che era finalizzato la creazione di unità didattiche, diciamo, a carattere trasfrontaliero per quanto possibile, ma finalizzate in questo caso al potenziamento dell'insegnamento della lingua italiana, diciamo, dall'asilo fino alla quarta ginnasia, no? Siamo suddivisi il compito, avete visto giovedì scorso, se non erro, le prime unità didattiche pensate per l'asilo e per il primo triennio. Oggi stiamo vedendo quelle, diciamo, essenzialmente del terzo triennio della scuola elementare e quelle pensate per le scuole medie. Sono dei materiali, delle proposte di materiali che possono essere utilizzati in toto o in parte da parte dei nostri colleghi e anche una traccia su come si può, diciamo, lavorare, affrontare una tematica in modo interdisciplinare, multidisciplinare, no? Insieme ad altri insegnanti, lavorando su più tematiche, ma con filo russo, con filo comune che sia, diciamo, di un collegamento tra tutte queste materie e di un prodotto finale che abbia una qualche valenza, diciamo, no? Quindi, un romanzo al confine, un confine geografico, un confine politico, un confine anche psicologico tra città e campagna. Il calcio di Slaterper è un calcio estremamente diverso da quello che conosciamo oggi, è un calcio diciamo, primitivo, anche in senso positivo, ma senza mosche e senza forestieri, lo definisce, dove la vita era, diciamo, estremamente dura. Probabilmente conoscete altre opere che forse andrebbero approfondite anche a scuola, come il gesso di Fabiani o altre opere anche in lingua italiana che parlano del carso e della vita di questa zona. Un altro argomento che sempre risale a quest'epoca che andrebbe approfondito collegando la storia, il territorio, la condizione femminile. Un giorno dovevo lavorare sulle alexandrinche, sulle ragazze, sulle giovani donne di solito di etnia slovena che lasciavano tutto e tutti per andare a lavorare come cameriere, baglie, tutrici e così via, ad Alessandria d'Egitto. Un fenomeno che è stato studiato da poco, molto interessante, dal punto di vista sociologico, storico, linguistico, che andrebbe anche questo valorizzato a scuola pian piano, dapprima forse nelle scuole della maggioranza, ma anche da noi perché non mancavano anche ragazze, diciamo, istrovenete o friulane o, diciamo, italiani di Trieste che hanno percorso questa strada, questa vita molto particolare, fino a non troppi anni fa, tra l'altro. Quindi, attività proposte insieme agli insegnanti italiani storia, cerchi informazioni, anche qui parole chiave, belle POC, fonte tristina, identismo, simili. Poi, vedete, abbiamo un lavoro a livello più alto, dal punto di vista linguistico, perché, giustamente, i ragazzi, ormai queste cose devono conoscerle, gli ossimori, il significato di espressione è un testo poetico, gli occhi vacillano, inferno d'agosto, pannocchie canneggianti, sento lontanare del profondo, si disvegeta addirittura, no? Altre attività in cui i ragazzi devono spiegare con le proprie parole, il sentimento, il contrasto di amore e odio, in parte, per il carso, duro e buono, questa dicotomia. E quindi un lavoro letterario, ma non solo, che i ragazzi hanno da svolgere insieme agli insegnanti di lingue, slovena, italiana, di geografia, volendo anche di inglese, e così via. Infine, unità tematica dedicata appunto alla condizione femminile, in questo caso un racconto breve, l'albero di Natale di Anna, adatto forse più alle classi prima e seconda, anche perché in quel periodo della loro, diciamo, maturazione, nel loro percorso scolastico, hanno appena, o stanno finendo di studiare la sociologia. Quindi, insomma, sono freschi della materia, materie che poi non recupereranno, nel senso, sapete, dal curriculum scolastico delle scuole medie, che alcune materie vengono svolte solamente per un anno e poi tacciono. Questa storia dell'arte, filosofia, psicologia, sociologia. Quindi abbiamo pensato, a questo racconto che ha degli interessanti svolti sociologici, di trarlo, di utilizzarlo per ragazzi di prima e seconda. La struttura è simile, in un'altra didattica come le altre, anche nella durata, nel lavoro da fare, ma anche qui, vedete, si può lavorare in questo senso. La preparazione di edizione è glossare i plurilingui, in questo caso più sulle forme dialettali, ma non solo. E vediamo in sé il lavoro di Natale e di Anna. Anche qui si parte da un momento di attivazione di ragazzi, cosa ti fa venire in mente la parola Natale. Anche qui è un argomento relativamente delicato, perché Natale lo è, ma non per tutti. Quindi abbiamo parecchi ragazzi e ragazze che non praticano, che non seguono questa festività, diciamo, di origine cristiane, perché sono di altre origini, altre religioni, e comunque hanno da confrontare, ad esempio, il Natale nell'Istria, come era rispetto a quelli compagni. Leggi questo breve racconto che riguarda l'ultimo Natale di pace in una famiglia istriana, esattamente 80 anni fa. Poi, insieme ai tuoi compagni, confronta le tue impressioni. E c'è il racconto, un racconto che si ambienta nel dicembre del 39. C'è una ragazzina, Anna, e diciamo le sue avventure, il suo Natale è abbastanza triste. Si svolge nel buiese questo racconto, quindi è anche abbastanza, vedete, Castelvenere, Buie e così via, sono località anche abbastanza note, comunque possono essere abbastanza chiare dal punto di vista spaziale ai ragazzi. Le forme dialettali, su cui poi lavoreranno, incluse nel testo. È un testo un po' più lungo, come vedete, anche perché è un testo più semplice. Fritelle e Frituli, la forma dialettale. Qui ci sono delle note biografiche sull'autore. Riconosci nel racconto alcuni elementi menzionati, in generale le tieni condivisibili le interpretazioni proposte dalle note, confronto a tua opinione, con i tuoi compagni e compagni. Quindi qui un lavoro anche dal punto di vista di critica letteraria da svolgere. E poi anche qui il contesto storico. Sapete, questo è il contesto storico legato alla letteratura, può sembrare una cosa ridondante e monotona, ma è una delle prime domande che si fanno al candidato alla maturità di lingua italiana. Collocare l'autore nel suo contesto storico. Per cui abbiamo, diciamo, stabilito di inserire anche questa parte, che può sembrare relativamente forse noiosa e poco dinamica, perché è una delle domande chiave che vengono rivolte ai candidati delle nostre scuole, e non sono, naturalmente. Per cui, contesto storico, in questo caso ci spostiamo al ventennio fascista, all'Istia, seconda guerra mondiale. Insieme a essenti in geografia e eventualmente in biologia, cerchiamo di identificare i luoghi in cui fare riferimento l'autrice, basandovi sulle presentazioni e queste proposte, individuate caratteristiche geografiche, naturalistiche, paesaggistiche. Poi anche qui storia in geografia, visto che in programma, in prima e in seconda, in parte, e successivamente anche in terza e in quarta, possono già lavorare assieme, vedere la situazione economica e sociale dell'Istria, confrontandola con quella odierna delle trasformazioni. Poi, sociologia, abbiamo detto, e anche italiano e sloveno, una piccola ricerca sotto forma di intervista. Ponete ai vostri compagni di scuola la domanda in che modo trascorrevano in Natale i tuoi genitori, i tuoi nonni, quando avevano la tua età. Classificate risposte ottenute, elaboratele, preparate una presentazione sotto forma di testo espositivo. E poi presenta, sotto forma di PowerPoint, di intervista, di filmato, di inchiesta, come nella tua zona, o presso la tua famiglia, o nell'ambiente che frequenti, viene festeggiato il Natale. Poi ci sono attività prettamente linguistiche, termini dialettali, da, per così dire, tradurre, o meglio, provare il stile in italiano, e il fogoler, il tesson matto, da dove te l'ho gacciolto, e così via, le frittule. E, giustamente, ci sono alcune parole, espressioni inconsuete, modi di dire, espressioni che non si utilizzano ogni giorno. Scrivi il loro significato in una forma più vicina alle nostre abitudini, e confronto la tua versione con quella dei compagni, quindi anche qui è abbastanza dinamico, no? Il confronto, più che la raccolta. E provo a spiegare, per quella ragione, l'autrice ha utilizzato queste espressioni. Cappelli neri come la pece, occhi da cerbiatta, te la vedrai con lei, tempo da neve, al piano di sopra quando ci arriverai, se non ci sogniamo le patate cotte, pane a raffermo. E qui sono da lavorare, da provare a interpretare queste forme, a tradurle, diciamo, nel loro linguaggio che userebbero ogni giorno, che userebbero in una prova scritta al ginnasio, alla scuola media, e confrontare. Poi, trova nel testo gli elementi in cui si può intuire la situazione economica della popolazione, buona parte di essa, al momento del racconto. E confronta ciò che hai trovato, la tua selezione è quella dei compagni, e cerca, appunto, informazioni ulteriori sui luoghi citati dal racconto, e confrontale, e prova a sintetizzare i cambiamenti in cui questi luoghi sono più interessati, come è cambiata l'economia, il modo di vivere, la popolazione anche in queste località dell'Istria. Poi, appunto, il lavoro con i sintetizzati di sociologia, leggete il racconto assieme agli sintetizzati di sociologia, cercate di individuarne, al suo interno, gli elementi che possano essere interpretati in riferimento alle principali teorie sociologiche riguardanti il fenomeno della devianza. Se un episodio simile si verificasse oggi, come pensate che agirebbero rispettivamente il bambino, il carabiniere, la madre, la ciabattina, confrontate le vostre interpretazioni. Quindi anche in questo caso, un lavoro che può essere fatto integralmente e comporta appunto un certo monte ore anche relativamente elevato e coinvolgimento di più insegnanti, può essere fatto in parte, può essere fatto a vari livelli e speriamo appunto venga man mano adottato questo, insieme a quello che abbiamo visto anche in questi giorni, come una linea guida per poter migliorare quanto già di buono facciamo in classe e mostrare una cosa sempre efficace agli alunni e ai ragazzi che il lavoro interdisciplinare è valido, è interessante, li coinvolge maggiormente, li dà un'apertura mentale naturalmente più grande rispetto a loro abituarsi a identificarci per materia, l'insegnante di storia, l'insegnante di inglese e così via che non deve parlare, non può dire altro rispetto a quello che riguarda la sua materia ma che siamo in grado appunto anche di lavorare assieme e di arricchire il loro sapere, le loro conoscenze, le loro competenze attraverso un lavoro appunto comune e interdisciplinare in questo caso e con questo avrei diciamo concluso. Grazie a tutti.